Finalmente abbiamo vinto una partita, dopo due partite a mio avviso dominate, con un punto solo. Oggi finalmente abbiamo preso i tre punti e domenica andiamo a Giulianova per cercare di prendere l'altro punto che manca. E' soddisfatto comunque della prestazione dei suoi oggi? I ragazzi hanno dato l'anima, queste due partite che abbiamo giocato prima e la terza oggi, secondo me abbiamo dimostrato di valere qualcosa in più di quello che la classifica dice. Stiamo là, ce la giochiamo fino in fondo e speriamo di fare la finalina play out. Diciamo che noi siamo stati poco precisi oggi, loro sono stati più bravi, ci hanno messo più voglia, più che più voglia ci hanno messo più determinazione perché la posta in palio per loro era altissima, un po' come per noi la settimana scorsa. Non abbiamo giocato male, però abbiamo finalizzato davvero male, nonostante le tante occasioni. Abbiamo raggiunto con una giornata d'anticipo la salvezza matematica, non ci resta che salutare tutte le contendenti che abbiamo incontrato quest'anno in eccellenza, abbiamo un'ultima partita in casa nella quale fare una piccola festa a salvezza e facciamo un grosso grosso in bocca al lupo alla Santa Egichese perché sicuramente venderà cara la pelle nel prologo di questa stagione.